Salve a tutti cari amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video, sono al Gran Forno il Fusillo di San Giotto di Stagnao per far vedere la monografia di Maurizio Patrizio e Guido Morra, che contiene lo spartito di 17 canzoni scritte e composte da loro. Vi sto allo spartito, come potete vedere, delle 17 canzoni contenute all'interno di questa monografia, più i testi delle canzoni. E questo è tutto. Se vi è piaciuto questo breve video, mettete un like. Buonasera a tutti quanti voi dallo YouTube Robby, buonasera a tutti quanti voi che guardate la casa.